Ciao Gi- Ciao Lucy! Ciao Giussi! Come stai? Come stai? Bene, sto bene. E tu? Tutto bene? Questa è la tua corda. Giussi, iniziamo a tirare la corda della corsa? Certamente, iniziamolo. E' difficile, non ce la fa. Forza Lucy, tira. Ora tocca a me. D'accordo. Ok, fermati. Brava Lucy, grazie Giussi. Grazie a tutti.